Allora, spero di essere bravo come gli altri, non è facile, loro hanno una bella parlantina e io un po' meno. Ringrazio tutti di essere venuti qua, ringrazio voi di essere venuti, spero che vi stia piacendo come cosa, è una cosa un po' diversa dal solito, è una cosa dove ognuno racconta la propria esperienza e provo anch'io a raccontare la mia. Allora, parto da tanto tempo fa. Allora, io come istruzione sono geometra, da geometra ho fatto l'Accademia delle Belle Arti di Ancona e quindi sono lavorato in grafica design. Da lì poi ho cominciato a lavorare in regione e facevo un lavoro che assolutamente mi faceva schifo. Chiunque dice cazzo è entrato in regione e quindi a posto c'è il culo parato, beh io mi sono licenziato perché volevo fare il tatuatore. È una cosa che non tutti farebbero, non vi dico i miei genitori cosa mi hanno detto appena ho fatto, ho fatto questa cosa e da lì ho cominciato come apprendista in uno studio qua della zona, inizialmente per anni come piercer e dopodiché piano piano ho cominciato a tatuare come tutti quanti, quindi dal commerciale a qualsiasi altra cosa. Inizialmente ho fatto chili e chili di mele, tatuavo con quello, partendo dalla bobina a montare gli aghi, a tutte queste cose qua e questo accadeva 14 anni fa e quindi ecco inizialmente facevo qualsiasi cosa mi capitava, qualsiasi cosa mi chiedevano, comunque sia la gavetta è fondamentale, aiuta sicuramente a avere padronanza dei mezzi, delle macchinette, degli aghi, a capire come saturare, come non saturare. Vedo molti oggi che partono con dire ok faccio quello stile, parto e faccio quello stile lì, però magari le varie step comunque sia fanno comunque sia di te un artista completo, secondo me. Poi una volta che ognuno di noi sa la padronanza di ogni stile e di ogni macchinario potrà poi decidere quello che secondo lui riesce meglio o meno, però secondo me è una gavetta che inizialmente va fatta. Mi sono dopo qualche anno buttato sul geometrico perché è quello che me lo sentivo più mio, venendo ecco come dicevo inizialmente facendo il geometra e il grafico pubblicitario, è uno stile che ho unito in senso, quindi sono delle geometrie che ho unito poi a computer e l'elaboravo poi a computer. Inizialmente ho avuto molta molta difficoltà perché come ecco molti di voi sapete insomma è uno stile molto particolare e è molto difficile da proporre ai clienti, soprattutto pensando a molti anni fa. Adesso è uno stile che comunque sia è molto visto e molti provano a farlo e quindi è più facile proporlo. All'epoca era molto più difficile, quindi inizialmente per provare a mandarlo o a spingerlo magari c'era il ragazzo che mi veniva vorrei il braccio del The Rock, al solito che mille avrete visto, oppure vorrei il braccio polinesiano, ok guarda te lo faccio a modo mio, te lo ridisegno e comunque sia, che ne so, facevo il mandala al posto della spalla di The Rock, lo rifacevo più in modo geometrico e cercavo di rifilare un braccio polinesiano in modo geometrico e poi comunque sia qualcuno lo apprezzava, qualcun altro diceva no assolutamente voglio il mio braccio di The Rock, allora a quel punto, vabbè, ok ti faccio il braccio di The Rock anche se pesi 20 kg. E quindi ecco, prendendo tra virgolette in giro un po' il cliente, rifilavo un po' il mio stile e da lì piano piano ho cominciato ad ingranare e mandarlo, insomma, negli anni. Molte volte, facendo dei lavori grandi, mi imbattevo comunque sia in delle coperture, comunque sia quando uno fa delle braccia intere o delle gambe intere, magari si imbatte in dei vecchi tatuaggi e da lì ho cercato comunque sia il modo migliore per poterlo coprire o raggirare. Inizialmente facevo delle grandi stesure di nero oppure comunque sia lo inserivo in dei soggetti molto scuri in modo che si mascherasse parecchio. Fino a quando mi è arrivata un giorno una ragazza che aveva praticamente una torre Eiffel fatta malissimo, era tutta piena e la torre Eiffel fatta male era un A, e l'A era la lettera dell'ex suo. Appena è arrivata a casa praticamente il ragazzo, non vi dico quante inadette, lo devi assolutamente cancellare perché questa ricorda un A. È venuta sta ragazza e dice guarda fai quello che vuoi, basta che lo copriamo. Ho detto guarda non ci ho mai provato, proviamo con un incarnato, vediamo se comunque sia schiarisce o non schiarisce, è ok. È tornata e effettivamente comunque sia era schiarito di parecchio. A quel punto sono potuto andare sopra con altri soggetti. Da lì piano piano ho cercato sempre di più di capire come poter coprire al meglio i vecchi tatuaggi e comunque sia è diventata una mia specialità. Ho sicuramente attirato l'attenzione su di me anche per questa cosa, era una cosa che in pochissimi facevano, in molti mi hanno dato contro perché dandomi dei fotomontaggi o dei fotoritocchi e queste cose qua. L'unico modo che avevo comunque sia per dimostrarlo e quant'altro era partecipare a convention, cercare di fare vedere i miei lavori da guarito, cercare di partecipare a contest e far vedere a tutti di persona quello che facevo. Perché comunque sia, come diceva prima Brigante, quello che vedi sui social molte volte dici sì ok, vabbè, la foto li toccato, oppure comunque sia non rispecchia poi la realtà del pezzo. Soprattutto quando poi lo vedi da guarito, c'è il caso che la foto appena fatto sì ok, bellissimo, poi da guarito non rimarrà mai come in foto, insomma come appena fatto. Quindi ecco, l'unico modo di dimostrarlo era poter girare e poter far vedere a tutti, appunto partecipando a contest o a convention, quello che riuscivo a fare. Un'altra mia particolarità che inizialmente molti mi hanno dato contro era quella di inserire il colore nelle mie geometrie. Di solito il geometrico, il tribale in generale, era sempre solo basato su colori neri o grigi o qualche volta degli acceni di rosso. Io ho inserito comunque sia delle grandi stesure di colore sopra le geometrie oppure inserivo comunque sia proprio delle parti completamente colorate e questa sicuramente è stata una mia particolarità inserito nel mio stile. E ad oggi penso che comunque sia sia molto riconoscibile nel mio stile. Quando vedi un mio pezzo penso che chiunque pensa che dici ok, l'ha fatto lui. Comunque sia rendersi riconoscibili, rendersi originali è una cosa molto difficile, ma ognuno di noi si deve buttare e cercare comunque sia di sperimentare questa cosa cercando di rendersi unici, rendere il loro stile unico e riconoscibile. Altre cose, il mio stile comunque sia si presta molto a delle grandi lavorazioni. Quindi inizialmente facevo come tutti il classico flash o il classico mandala posizionato e via. Piano piano ho cominciato poi a svilupparlo in grandi zone o in grandi superfici o braccia intere o mezzi corpi o gambe intere che comunque sia rendono meglio lo stile. Mi piace molto quando i soggetti avvolgono intere facce muscolari o comunque sia quando è in movimento segua proprio il movimento del braccio o della gamba. Per me è quello che rende il pezzo funzionale. Attaccare quattro stencil fino a quando non riempi tutto il braccio non è una cosa che mi piace. Sicuramente devono seguire tutti i movimenti del corpo e delle muscolature e quando è in movimento funziona, nel senso che segue tutto il movimento e dà movimento comunque sia e sinosità a tutte le parti del corpo. E questa penso sia la cosa più difficile nel mio stile da fare. Non è facile adattare a intere superfici così grandi uno stile del genere. Quello che mi ha fatto evolvere sicuramente molto inizialmente perché non ce n'erano tanti che facevano questo stile è andarmi a tatuare personalmente da chi mi piaceva più di tutti. Era l'unico modo per cui non mi puoi nascondere niente perché me lo fai davanti alla faccia. Quindi non essendoci seminari o quant'altro farmi tatuare sicuramente era la cosa migliore per poter crescere. Quindi quando magari mi tatuavano ok che agosi, che attrezzatura usi ok vedo come lo fai, come non lo fai. Sicuramente anche tatuarsi è una cosa che aiuta molto per crescere. Come ti guarisce un pezzo, come non ti guarisce ok è calzato in quel modo e quindi la linea mi rimane in quel modo. È una cosa secondo me quella tatuarsi che comunque sia ti fa evolvere molto. Vedo molti colleghi che non hanno nemmeno un tatuaggio e per me questa cosa è un po', non so, è come il dentista con gli denti storti. Quindi mi fa un po', dico ok, non accetto molto la cosa come a livello etico. Però dopo ecco, in senso, ognuno è libero di fare come vuole. Però è una cosa che penso che se ce l'hai come passione la prima cosa che ti viene da fare è tatuare te stesso comunque sia. E basta, come avevo detto, non sono di molte parole però penso di aver detto un po' tutto quanto in maniera breve e intensa. Grazie a tutti. Grazie.